L'andamento della pandemia, la curva dei contagi è in risalita. Secondo il monitoraggio della Fondazione Gimbe, negli ultimi sette giorni c'è stato un incremento di casi del 36%. 17 province hanno un'incidenza di almeno 1000 casi ogni 100.000 abitanti. Cresce il tasso di positività al 14,8%. La situazione degli ospedali resta sotto controllo. Il governo sta mettendo a punto le misure per aiutare famiglie e imprese contro il caro energia.